Attenzione perché tocca a voi, un attimo solo e carino, ragazzi un po' di pazienza e carino, un po' di pazienza e carino, attenzione, non sento l'ora da parte del pubblico, non lo sento, vincitrici della LEM Trophy Team Mediterraneo Rarinantes Imperia! Grazie a tutti! 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 Mario con cara! D groza!! Mi sono Fito! Non sono al reddito! Ha saluto la squadra non si può fare la squadna! Sì! e adesso tutti a dormire come si spegne, come si spegne la luce no, lui dice di no